L'IMS di Caltanissetta comunica che dal 1 luglio le istanze di invalidità civile e handicap dovranno essere inoltrate all'ASP di competenza perché il protocollo d'intesa per l'affidamento di queste funzioni con l'azienda sanitaria di Caltanissetta non è stato rinnovato. L'IMS pertanto tratterà solo le domande pervenute entro domani 30 giugno.